La sfida invece è per me parlare di economia romana perché questa diciamo è una serie che in realtà non avevo programmato. Avevo programmato un'altra serie, la stavo preparando, poi domenica nel debriefing che facciamo sempre con i miei cari colleghi Diego e Riccardo dopo la live su quello lì che non nominiamo solo gli arrivano le visual, che succede? Succede che si parlava, insomma, dei sistemi economici, capitalismo, marxismo, allora storicamente, e la cosa che ha detto Diego è che sarebbe bello parlare di economia romana. E io ero lì, avevo la mia biblioteca, quella che avete qui dietro, e ho detto guarda, lo vedi quel libro con la copertina rossa, che è questo che vi faccio vedere, facciamo un po' di copertina libri anche, visto che Mardegana ha lanciato questa moda, questo libro con la copertina rossa è un libro a cura di Warther Scheidel, ed è il manuale Cambridge dell'economia romana. È uno dei due libri, o meglio, delle due collane che sono uscite negli ultimi dieci anni sull'economia romana, la affronta da tutti i punti di vista, quindi, diciamo, tutti gli argomenti di cui parleremo stasera. Non è l'unico manuale che mi sentirei di consigliarvi, di saggio che mi sentirei di consigliarvi, è tecnico, quindi è rivolto a storici, in particolare a storici dell'economia, però è abbastanza comprensibile, seguibile. Dicevo, questo è uno dei libri che vi consiglio, l'altro libro non ce l'ho qui a portata di mano, si chiama Quantifying di Roman Economy, ed è della linea Oxford, cioè Cambridge aveva fatto appunto il manuale questo qua di Roman Economy, Oxford ha la sua linea sull'economia romana. Non è l'unico libro edito, tra l'altro, da Oxford, è molto bello. Hanno fatto un progetto di 15 anni, loro che hanno i soldi e le risorse per farlo, in cui hanno pubblicato, a cura di due mostri sacri della storia romana e soprattutto della storia economica romana, che sono Alan Baumann ed Andrew Wilson, e hanno curato una collana intera sull'economia romana, di cui questo è uno degli ultimi usciti, che è molto carino perché diversi capitoli presentano la presentazione di un problema dell'economia romana da parte di un autore e una risposta da parte di un autore di scuola diversa, di opinioni diverse, che mette a confronto i dati del primo con quelli propri al secondo, con l'approccio proprio del secondo. Quindi, se siete interessati all'argomento, ve lo consiglio assolutamente. Se invece non frequentate tanto l'inglese e preferite qualcosa in italiano, assolutamente le opere di Elio Locascio sono... tutta la bibliografia di Elio Locascio affronta diversi temi dell'economia romana, quindi potete tranquillamente reperirla in giro. Ah, qui si apre subito un tema molto molto delicato, ovvero... Quali sono le fonti che noi abbiamo per studiare l'economia romana? Ne abbiamo tantissime, estremamente diverse tra loro, che possiamo studiare con metodologie, con scuole diverse tra loro, con approcci puramente economici, con approcci puramente storici, con approcci puramente archeologici quantitativi o qualitativi, e anche con nuovi approcci di cui vi parlerò, credo, nell'ultima puntata di questa serie. Perché diciamo che partiamo da un tema esclusivamente storico-economico, affrontabile anche con gli strumenti della statistica, assolutamente, e... buonasera Digger! E prendo spunto da un articolo che è uscito oggi su Renovazio Imperi. L'articolo, lo dico esplicitamente, sto decontestualizzando brutalmente e volontariamente quello che dice l'articolo, perché mi interessa proprio l'incipit che vi recupero al volo. Vediamo un po'... Eccolo qua. L'articolo, il post su Facebook, lo trovate tranquillamente, è uscito un 7-8 ore fa, dice La storia è la materia più umana che ci sia. Applicare ad essa il metodo scientifico per stabilire l'eredità storica è un errore logico, come lo sarebbe applicare la fisica classica all'interpretazione di un sogno. Questa specifica affermazione mi ha fatto molto pensare, perché ovviamente, come sapete, sono un archeologo, e il metodo scientifico è, con fatica e sudore della fronte di molti, è entrato a far parte del kit di strumenti di cui un archeologo dispone e quindi mi sembrerebbe giusto utilizzarlo, soprattutto utilizzarlo in maniera applicata a un tema come quello dell'economia romana che si presta molto a strumenti di tipo scientifico e informatico. Ma ne voglio parlare, ne voglio parlare assolutamente poi nell'ultima puntata. Le due definizioni di economia romana. Economia romana è un'economia premoderna, e direi che su questo non ci sono grossi dubbi. È un'economia caratterizzata dall'uso di combustibili naturali. Direi che anche questo va abbastanza de plano, nonostante complottisti e cose varie. Ragazzi, è un'economia prevalentemente, attenzione all'avverbio, prevalentemente agraria. Adesso, Serena, ti tiro fuori veramente i big sesterzi. Preparati. Quindi è un'economia di contadini che con strutture agrarie di vario tipo coltivano la terra, bruciano per scaldarsi, per lavorare, e gli artigiani usano il legno, il carbone, così via, il bitume per incatramare le navi, in cui non esistono, nel senso moderno del termine, fabbriche, esistono degli atelier, ma li vedremo, non esageriamo troppo con gli spoiler. E quindi è un'economia di questo tipo, con merci che vengono trasportate su nave, su carro, su dorso di mulo, ecco. Dall'altra parte, è un'economia che, secondo stime, e adesso arriviamo alla risposta della domanda di Mickey Dave, secondo diverse stime, tra cui quella che vi cito, quella molto autorevole, sempre di Walter Schiedel, diverse stime riportano che il PIL generale, il prodotto dell'intero impero, quindi parliamo in questo momento non di quando Roma era poco più che una cittadina con dei campi fuori, ma di quando è configurata come un impero mediterraneo, e intorno ai 20 miliardi annuale di sesterzi. Volevi i big sesterzi, Serena? Te ne ho cacciati i 20 miliardi. Morgera, tu ce li hai i 20 miliardi di sesterzi? Non mi pare. Ragazzi, 20 miliardi di sesterzi per un PIL pro capite, che poteva variare mediamente tra 160 e 386 terzi. Sempre per un po' di calcoli con il cache attuale. Aspettate, vi faccio un calcolo bellissimo, vediamo un po' quanti sono. Allora, 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 vediamo. Allora, 20 miliardi di sesterzi, no, facciamo quello pro capite. Ok. Vi dicevo, PIL pro capite tra i 160 e i 380 sesterzi annui ad personam, questi siamo latini, facciamo PIL, PIL, esatto, QPIL per tutti, che equivalgono, visto che siamo in tema di cripto, a 0,03 bitcoin. Chi non ha non ha non ha particolare accortezza nel trattare il bitcoin, vi faccio un cambio in dollari, sono 1200 dollari annui. Ora, con 1200 dollari un romano non ci comprava molto, però in sesterzi era un buon cambio. Era un buon cambio al punto che si calcola che con 260 sesterzi, che è la cifra media tra i 380 e i 160, quindi con 1200 dollari, 0,03 bitcoin, un cittadino romano potesse comprare fino a 700 chili di grano. Poi non so perché dovesse comprarne proprio 700, se se li mangiava tutti, ma diciamo, il suo potere d'acquisto è questo. Capite che ci troviamo di fronte a un organismo economico che nel bacino mediterraneo per la sua conformazione, per tutte le sue caratteristiche, non ha precedenti. Quindi, quando si studia l'economia romana, ci sono una serie di approcci che possono essere usati, quello comparativo a parità di cronologia, l'unica struttura economica paragonabile è quella dell'impero cinese contemporaneo. Se no, bisogna guardare dopo ad altri tipi di strutture economiche più tardi nel tempo per capire quali caratteristiche, quali semiglianze, quali dissimilità ci sono fra l'impero romano e i suoi successori. Esatto, il grano glielo distribuivano a gratis, quindi non c'erano problemi, a Roma il grano mancava raramente. Quindi abbiamo questi due estremi enormi e ovviamente abbiamo una storia di un'economia che non affronteremo dal punto di vista storico perché non voglio farvi una carrellata di come cambia l'economia romana nel tempo, voglio raccontarvi alcune cose dell'economia romana per capire al suo massimo sviluppo, al suo massimo livello di connettività che cosa significava commerciare e operare economicamente all'interno dell'impero romano. Non sono paragonabili per dimensioni globali dell'economia, per la struttura o entrambe? Dici, con altri regni per esempio contemporanei? Allora, l'impero romano ha delle caratteristiche intrinseche che sono, adesso le vediamo tra l'altro, che sono legate alla zona, al tipo di struttura anche istituzionale, alla composizione sociale della società che demograficamente proprio abitava l'impero, che ha paragoni al suo massimo sviluppo chiaramente, perché prima è una delle economie adesso ce ne parliamo, è una delle economie del Mediterraneo, ma al suo massimo sviluppo non ha paragoni, non ha, per esempio, non ha concorrenti se noi pensiamo all'impero romano come a un unico insieme, come se noi prendessimo per esempio gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India, le grandi potenze economiche e commerciali, in quel momento l'impero romano l'unico grande competitor ce l'ha in Cina e a momenti non si parlano poco, cioè non c'è una competizione sullo stesso mercato, ecco, entriamo subito nei discorsi economici. Il mercato dell'impero romano è interno e anche esterno alle sue terre, ma non è in competizione con, nel suo insieme con altri mercati. Pure la Persia faceva il suo, chiaramente, sì, c'era tutto l'impero partico che era una potenza importante che limita l'espansione dell'impero romano, però non va a competere dal punto di vista economico con l'impero romano, perché i mercati a cui si rivolgono sono diversi, ecco, questo è il succo, cioè i punti diciamo di è un discorso complesso da fare perché non abbiamo la stessa la stessa lo stesso tipo di competizione che per esempio c'è tra i paesi moderni, non esiste questo concetto, non si opera come un organismo unico, però all'interno diciamo di questa similitudine che usiamo in maniera un po' forzata ci sono pochi competitor, ecco, ci sono pochi interessi economici che possono rivaleggiare con quello dell'impero e dell'impero non intendo solo dal punto di vista formale, istituzionale, ma proprio capillarmente della sua capacità di raggiungere e di commerciare. Serena, io banalmente penso alla via della seta, ne parleremo della via della seta, parleremo dei commerci interni ed esterni, guarda Bradipo, mi hai letto nel pensiero dell'impero romano perché una cosa che noi dobbiamo tenere presente quando parliamo di commercio appunto dell'impero è che i confini dell'impero sono confini sono sulla carta. Anche nelle zone in cui il Limes è particolarmente marcato, per esempio il Danubio, se ricordate il podcast di Barbero in cui parla dei goti che passano il Danubio è vero cioè quello è un limite fisico però non è che come dire i cittadini romani arrivavano sulla riva del Danubio vedevano i villaggi dall'altra parte gli abitati dall'altra parte e dicevano no vabbè ma io non vado a vendere lì cioè non esisteva questa cosa anzi non esisteva non esisteva già da prima e dopo vi leggo un brano molto molto carino esatto cosa andate dove andate i parti sassani di esatto di Gerfetch di tutto per ostacolare i rapporti con la Cina perché a un certo punto i parti si trovano tra due grossi interessi economici tra due grossi imperi che hanno un potere anche di acquisto e di commercio e di strutture e di infrastrutture che se si fossero messe in connessione avrebbero obliterato probabilmente o comunque declassato i regni partici dicevamo degli elementi che intrinsecamente sono particolari dell'impero romano prendiamo il primo ragazzi nel momento in cui l'impero si configura come tale quindi possiamo dire anche in età augustea tutto il mediterraneo praticamente tutto il mediterraneo tutto il bacino è sotto uno stesso dominio e non è una cosa mai successa prima prima c'era una spaccatura grossa in cui c'erano c'è il mediterraneo orientale con la l'Asia minore l'odierna Turchia la Grecia la Macedonia e anche parte del vicino oriente la Siria il Libano e così via con una rete di commerci che poi include anche l'Egitto tolemaico quindi tutti i regni dei principi macedoni delle dinastie post-morte di Alessandro dall'altra parte per molto tempo per gran parte del quarto e del terzo secolo ci sono i cartaginesi che occupano tutto il mediterraneo occidentale sia le coste dell'Africa che quelle della Spagna quella parte lì è loro in mezzo ci stanno i Romani insieme tra altro agli Etruschi insieme ai ai Greci che avevano colonizzato le regioni del sud Italia della Sicilia quindi ci sono commerci non è che non ci sono anzi la rete di commercio è fiorente ma tutti questi commerci avvengono tra popoli che non sono sotto un'unica legislazione che non hanno un'unica moneta che non parlano un'unica lingua che non sono sotto un unico stato quindi per esempio pagano dei tassi dei dazzi importanti sulle merci importate e esportate che per esempio hanno anche condizioni di vendita di vendita diverse di prestiti e cose del genere invece per quanto riguarda l'economia romana a un certo punto Roma si trova ad amministrare almeno per quanto riguarda il bacino mediterraneo un bacino appunto completamente unito quanto di questa unificazione influisce sul gettito economico monetario sulla capacità di commercio e di scambi dell'impero romano sicuramente tanto tuttavia come vi dicevamo questa situazione che prima invece era estremamente frammentata però non era priva di contatti di commercio anzi tutti i regni ellenistici avevano una serie di elementi in comune che sono l'urbanizzazione l'uso della moneta un sistema di scambi commerciali un sistema di tasse anche e quasi tutti direi tutti anzi è così a memoria un sistema di schiavitù di mano d'opera di labor come dicono gli inglesi di mano d'opera a basso costo che ovviamente è un elemento importante nella gestione economica bunder ma è vero che qualche pazzo in culo faceva la tratta in cabotaggio lungo le coste arabe per arrivare a porti indiani ma certo che è vero allora ragazzi prima di andare oltre vi dico di cosa parleremo in queste puntate questa di stasera come avete già capito è un'introduzione ho spaccato tutto è un'introduzione parleremo di alcuni temi alcuni teorici altri un po' più pratici che fanno parte dell'economia romana una visione d'insieme diciamo poi vorrei fare delle puntate che sono tematiche di alcuni alcuni aspetti di questa di questa economia e queste puntate sono la villa e gli schiavi quindi parleremo sempre di un oggetto una struttura e una persona perché la storia è fatta di persone e di cose quindi parliamo di villa e di schiavi parleremo di navi e commerci del mercante chiaramente che in questo caso sarà proprio quello che dice Wunder però non vi voglio dire altro parleremo di città e di artigiani quindi magari cercherò di farvi vedere anche come funziona a livello planimetrico urbanistico la suddivisione degli spazi di una città dove stanno gli artigiani e così via e infine ci sarà quest'ultima puntata su economia e metodi scientifici per studiare l'economia romana diciamo così poi veramente non voglio dirvi altro perché sarà una cosa forse un po' tecnica però alla fine molto carina etrusche cartaginesi versus il mitico Dioniso siracusano esatto la Sicilia spaccata a metà come come e condivisa appunto tra tra i due ci sono pure le tasse esatto serena le tasse sono un un elemento importante delle riflessioni e anche del modo con cui vengono calcolate le entrate dell'impero per esempio nelle analisi che abbiamo detto prima bisogna distinguere dice digger i cittadini con cittadinanza ottimo iure dagli altri esatto io adesso in questa introduzione non entrerò nel dettaglio legislativo va tenuto presente che a Roma e nell'impero romano esistono diciamo potremmo chiamarli vari livelli di cittadinanza a questi livelli di cittadinanza corrispondono una serie di permessi di diritti che ha il cittadino per esempio quello di sposarsi con con cittadini o cittadini cittadini cittadine romane e così via quello di commerciare liberamente o meno e quello di votare per i propri magistrati per i propri rappresentanti politici o meno diciamo che in questo nostro viaggio di economia romana di criptovalute di sesterzi di aurei non ne parleremo però è una cosa che sicuramente va tenuta presente Michi tornando scusami perché poi diciamo nei vari giri non vorrei aver non risposto alla tua domanda per calcolare per esempio il gettito economico ci sono tutta una serie di elementi che possono essere calcolati ci sono fonti che ci parlano del reddito non di cittadinanza del reddito per esempio delle grandi ville dei grandi latifondi abbiamo tante fonti che ci parlano dei gettiti fiscali dell'impero del costo delle merci quindi ci sono poi tutta una serie di indici di valori che possono essere usati per calcolare le cifre di cui abbiamo parlato prima i 20 miliardi di sesterzi e così via e allora a sua volta poi trattandosi poi di materie prime anche presenti nel 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 mondo contemporaneo si possono anche fare valori e controvalori allo stesso modo sapendo il valore di una determinata merce nel mondo contemporaneo e calcolando con le dovute differenze con le dovute accise il suo valore nel mondo antico poi da quei dati è possibile ricavare ulteriori elementi anche tra le varie caratteristiche anche quella dell'urbanizzazione non è secondaria tra l'altro perché è vero che l'economia romana è un'economia prevalentemente agraria ma le città sono i nodi di una rete estremamente capillare di città villaggi ville sto molto diciamo semplificando però in grosso modo effettivamente così in cui materie prime e materie prime lavorate poi arrivano ai luoghi di vendita e da lì vengono scambiate all'interno di mercati locali e o di mercati più grandi a seconda appunto del ruolo della città questo significa che nelle città c'è una divisione del lavoro o non fanno tutti lo stesso lavoro ci sono molto spesso anche specializzazioni molto precise ci sono quartiere artigianali se andate per esempio a Pompei c'è tutta la zona delle posti dove fanno i vestiti mi verrà in mente fra poco delle 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 aiutatemi chat come si chiamano le taberne romane dove tingono i vestiti le 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 mi verrà in mente scrivete lo in chat così poi farò la mia figura da stolto le fulloniche grazie digger ecco non mi veniva la parola valtsobak spero l'ho letto giusto domanda interessantissima esistevano associazioni commercianti armatori sul genere compagnie commerciali medievali si la risposta semplice si la risposta più complessa è che sono dei modelli ibridi rispetto a quelli che hai in mente tu sono si chiamano collegia un collegio è una raccolta praticamente di artigiani o meglio ancora di armatori di artigiani molto più spesso di finanziatori di artigiani che si riuniscono appunto per per gestire traffici commerciali calmerare i prezzi e così via e molto spesso hanno anche una valenza sacrale come abbiamo detto più volte in queste live la differenza fra religione superstizione a roma è molto è molto sottile allo stesso modo la differenza fra religione come una cosa alta sacra e religione come una cosa presente capillare nella vita di tutti i giorni altrettanto importante in questo caso per esempio poi collegia hanno sia un luogo di riunione che sono delle aule mosaicate a ostia tra l'altro non per caso si sono conservati molto bene dei collegia a corfinio giusto per rimanere in tema come sempre una domus è stata interpretata probabilmente come un collegio un luogo di riunione di una corporazione quindi sì ci sono questi posti l'economia romana dicevamo urbanizzazione scambi e gli scambi li conosciamo soprattutto dalla quantità di materiali archeologici soprattutto di reperti ceramici che troviamo in giro per il mediterraneo classificati studiati tipologizzati ci permettono di capire quali sono le reti commerciali da dove a dove arriva un prodotto fin dove viaggiavano le anfore su per il rodano fino a dentro le galli oppure giù per il mediterraneo e fino alle coste dell'India addirittura attraverso il Mar Rosso come ricordava Wunder prima chiaramente per esempio per alcune cose abbiamo dei dati meno certi vi basti pensare che per esempio i sacchi di 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 uta che venivano utilizzati anche per stoccare il grano nelle navi questi non ci sono rimasti e quindi non abbiamo traccia materiale di questo tipo di scambi se non di pochi di pochissimi frammenti non so mi viene in mente credo a Pompei ci sia ancora qualcosa nei magazzini però andrebbe controllato poi abbiamo chiaramente i reperti numismatici le monete e abbiamo una serie di altre tracce che sono quelle archeologiche in senso più ampio quindi ritrovamenti degli atelier di produzione delle fornaci che ci permettono di capire anche i cicli produttivi e come funzionava appunto come funzionavano queste atelier di produzione abbiamo altre analisi che ci aiutano tanto ci sono le analisi polliniche che ci permettono di capire il tipo di coltivazione quanto fosse intensa all'interno di un determinato ambiente sono dei prelievi che si fanno nel terreno e restituiscono appunto i i microsemi rimasti all'interno degli strati di terra e che appunto ci dicono qual era la flora e come era cambiata una cosa molto interessante riguardando appunto i miei appunti in questi giorni era per esempio il consumo e l'utilizzo del piombo in base a una serie di carotaggi fatti in Groenlandia se non ricordo male hanno ricostruito la curva di inquinamento derivante dall'estrazione del piombo credo che ci sia c'è esatto anche nella pagina di economia romana di wikipedia si la trovate tipo a metà il grafico per cui se volete ve lo potete andare a vedere tranquillamente quella pagina ci racconta che l'utilizzo dell'inquinamento di piombo nel nel tempo raggiunge un picco durante l'età romana che non verrà più raggiunto fino mi pare al 1750 forse per cui c'è un momento di fortissima estrazione del piombo per varie cose anche per la monetazione per inserirlo in una monetazione o per strutture idriche non so c'erano le fistule in piombo che servivano appunto a fissare due due tubi poi sapete insomma di tutta la discussione sull'avvelenamento da piombo delle condutture idriche sempre dell'impero quindi un'economia anche che incide particolarmente nell'ambiente e l'ambiente ha a sua volta un ruolo nell'economia ovvero noi abbiamo parlato fino a questo momento dei fattori umani strutturali cioè quelli dell'impero in sé che cosa fa che cosa non fa l'impero e che cosa fanno gli uomini quali sono le tracce che gli uomini avevano nel nei fossili dell'economia che conosciamo ci sono anche ovviamente c'è un'ecologia c'è un sistema ecologico all'interno del quale si muove l'economia romana che ha tutta una serie di fattori che noi dobbiamo tenere da conto i romani avevano la loro Greta Thunberg chiede Bonzos sì in realtà l'ho scoperto oggi l'ho scoperto oggi in un podcast di di Barbero che è quello su Romani e Barbari del 2018 e dove un autore tardo a un certo punto dice noi non dobbiamo uccidere i barbari questionabile ma dobbiamo insomma preservarli perché sono sono importanti siamo noi in quanto padri principi e conquistatori Riccardo siamo siamo tenuti come dei padri a trattarli come dei figli e così come evitiamo che la fauna rara si si estinga e fa proprio tipo come gli ippopotami gli elefanti dell'Africa e dell'Asia non li uccidiamo tutti ma li preserviamo affinché essi non scompaiono del tutto quindi non so se effettivamente ci fosse una diciamo una mentalità ecologica come la intendiamo al giorno d'oggi c'è di fatto che il rapporto con con la terra e con i fenomeni naturali seppur mediato sempre dalla religione è un rapporto molto consapevole ecco consapevole e infatti tra i diciamo tra i fenomeni tra i fattori di cui andrebbe tenuto conto quando parliamo di economia romana per esempio noi abbiamo detto che l'economia romana è un'economia agraria però questa economia agraria non è equamente distribuita in tutto l'impero inizialmente è un'economia agraria che occupa le zone del Lazio successivamente andrà a occupare le zone della Puglia e della Pianura Padana con la grande bonifica della della Pianura Padana dell'accenturazione della Via Emilia e poi cosa succede? succede che questo mercato questo asse agrario si sposta completamente a un certo punto con la conquista della Sicilia e poi subito dopo della del Nord Africa e in particolare dell'Egitto ne parlavamo credo un'altra volta arrivano sul mercato delle quantità di grano tali che lo riprenderemo questo discorso quindi adesso lo tocco solo diciamo superficialmente arrivano delle quantità di grano tali che i piccoli proprietari non riescono più dei campi per esempio dell'Italia centrale dell'Italia settentrionale non riescono più a immettere sul mercato i loro perché sono fuori prezzo cioè loro hanno una botta di materia prima a basso costo che arriva da queste zone che non gli permette più di vivere dignitosamente di sopravvivere in realtà perché la gran parte della popolazione in realtà nonostante il reddito pro capita è medio calcolato la gran parte della popolazione vive appena al di sopra della sussistenza come è normale che sia una società prevalentemente agraria tra l'altro quindi a quel punto tutta la piccola proprietà comincia a vendere i propri campi e la produzione agraria passa da una produzione molto particellare di coloni di cittadini liberi a una proprietà latifondista con un ingente impiego di schiavi tra l'altro a questo collegato al fatto che nel secondo secolo arriva un grande afflusso di schiavi da tutte le conquiste romane schiavi a basso costo che quindi vengono comprati in maniera importante anche da latifondisti e quindi impiegati in questo tipo di attività Nord Africa come la Cina come l'Ucraina esatto grano a basso costo l'economia di secondo secolo va in crisi anche peraltro sì assolutamente questo mi serviva per spiegare come quando noi parliamo di economia di impero romano a volte dobbiamo diciamo livellare alcune differenze che sono legate a per esempio dove si coltivano i campi la resa dei campi la distribuzione la qualità dei raccolti non è uguale in tutto l'impero quanto produce un campo in pianura padana o nelle gallie non è uguale quanto produce un campo per esempio in Egitto o in Sicilia perché la Sicilia è il meglio questo lo dico da siciliano assolutamente in maniera oggettiva così come sono importanti per esempio i fenomeni di erosione dei suoli di deforestazione e questo si lega a un altro fenomeno a un macro fenomeno che molto spesso da storici tendiamo un po' a lasciare in secondo piano sottovalutare anche se è stato ampiamente studiato che è quello dei cambiamenti climatici ci sono tutta una serie di indicatori che ci portano a intuire che ci sia a un certo punto nella parte centrale dell'impero romano cronologicamente parlando un incremento di temperatura un periodo caldo che va grossomodo i dati variano leggermente dal secondo secolo avanti al terzo secolo dopo e che ha il suo punto diciamo di acme intorno al primo secolo dopo cristo periodo caldo significa che le terre coltivabili aumentano che la popolazione quindi aumenta perché il gettito di risorse che è immerso alla popolazione aumenta anche questo aumenta la temperatura aumentano in parte anche le precipitazioni cambia proprio il clima chiaramente questo porta a un certo sviluppo a una qualità di a una quantità scusate di di insediamenti rurali per esempio di fattorie di ville che crescono soprattutto nelle regioni continentali dove normalmente di base fa più freddo e quindi c'è una minore resa non ci sono dati sufficienti per capire esattamente se questo succede anche nelle regioni più meridionali soprattutto quelle del nord Africa e della Sicilia dove però effettivamente non vediamo non vediamo un calo per esempio dovuto a un aumento di temperatura eccessivo a un inizio di di come dire di desertificazione allora digger dice i produttori stavano sui campi di battaglia sì chiaramente nel secondo dal secondo secolo in poi comincia un periodo di 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 crisi bellica tra virgolette cioè prima la gente combatte fuori e poi nel primo combatte dentro e quindi c'è in qualche modo anche una crisi del sistema agrario che tra l'altro proprio nel primo secolo dopo Cristo c'ha nel regno di Augusto attraversa un 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 ulteriore fase esatto sotto Tiberio c'è una crisi economica una crisi economica derivata dal fatto che il predecessore di Tiberio Augusto allora per per far investire le persone nelle proprietà terriere terriere cosa in cui che nella quale lui credeva particolarmente aumenta il gettito di prestiti si indebita anche personalmente e indebita lo Stato col risultato di far crescere ulteriormente la proprietà latifondistica dei grandi proprietari che erano quelli che si potevano ovviamente permettere tramite anche accordi sotto banco con l'imperatore o con i suoi legati si possono permettere appunto questo tipo di impegno al contrario del singolo cittadino che chiaramente anche un prestito diciamo emanato dallo Stato ha una ha dei limiti ecco nel riceverlo successivamente poi appunto Tiberio cerca di mettere un un blocco a questa situazione causando però un crollo economico perché a un certo punto diciamo l'intervento di Tiberio è percepito essere talmente rigido che diciamo blocca frizza il sistema di produzione al punto che poi è costretto a ricorrere a tutta una serie di misure ulteriori ma magari questo poi lo vediamo lo potremo vedere in dettaglio la prossima volta quando parliamo del sistema della villa e degli schiavi che diciamo è anche legato al un po' all'argomento altri fattori per esempio ecologici che vanno tenuti conto sono quelli demografici allora premessa doverosa sulla demografia dell'impero romano la demografia dell'impero romano è uno degli argomenti più discussi della storia dell'archeologia di Roma perché a fronte del fatto che fino agli anni 70-80 si diceva si va bene più o meno siamo riusciti a calcolare tutto quanto tutta una serie di nuove teorie di approcci e di rilettura anche delle fonti proprio su Roma e sull'impero hanno portato a rivedere questi studi demografici che oscillano enormemente c'è chi parla di 100 milioni di abitanti nel suo momento di maggiore splendore c'è chi parla di 50 milioni di abitanti la metà comunque anche nelle cifre più a ribasso parliamo di cifre enormi che difficilmente poi che richiederanno parecchio tempo per essere raggiunte di nuovo questa diciamo gli indici demografici chiaramente poi hanno un peso sulla sulla sul commercio sulla sulla economia in generale in che senso che normalmente quando la popolazione cresce ovviamente a un certo punto si arriva a un punto in cui le risorse scarseggiano nel senso che si supera un limite oltre il quale le risorse non sono più sufficienti a a tutta la popolazione a quel punto si innesca un meccanismo ulteriore in cui la produttività si abbassa perché le risorse non sono più sufficienti quindi il gettito produttivo per forza di cose si abbassa i prezzi si alzano perché la domanda è maggiore della fornitura effettivamente disponibile a sua volta ci sono degli possono esserci degli elementi esterni o interni che portano alla alla diminuzione demografica alla diminuzione della popolazione o ci possono essere dei fattori interni ed esterni che portano a una sorta di adattamento o di miglioramento delle condizioni per esempio ci possono essere scoperte tecnologiche che a un certo punto permettono di accedere a risorse migliori di solito è questo che in realtà poi fa l'uomo quando si trova in queste situazioni però noi percepiamo questo alternarsi di questi meccanismi di questi cicli maltusiani che tra l'altro sono gli stessi di cui sempre è giusto per citare Barbero che abbiamo citato poco stasera mi manca Diego con le barberate dello stream deck sono quelli di cui parla Barbero quando parla della della peste nera dell'incremento poi della diminuzione demografica dell'Europa del 1300 e del fatto che quella diminuzione demografica poi permette che ci sia di nuovo uno sviluppo un'accelerazione perché di nuovo poi ci sono le risorse che fino a quel momento erano diventate insufficienti per l'espansione demografica stessa e sappiamo da alcuni indicatori che per alcuni momenti dell'impero va effettivamente così che i salari si alzano durante le epidemie che per esempio i dati antropometrici degli scheletri ci dicono che la statura media si riduce questo è un indice importante diciamo del benessere della salute delle persone e quindi possiamo in questo modo comprendere alcuni altri meccanismi che fanno parte appunto di questa economia estremamente complessa mi ero preso un appunto una cosa eccola qua sull'economia romana ci sono poi due scuole di pensiero fondamentalmente e anche qui sto molto riassumendo però diciamo a livello di inquadramento per quello di cui parleremo nelle prossime live credo che sia importante avere almeno dei punti chiave scusate mi sono perso qualche commento Sorgivo dice avevo fatto un esame di storia architettura sulle ville bellissimo Astri Fiammante potresti spiegare bene come funzionavano i rapporti tra Paternos e Clientes sì magari ne possiamo parlare visto che parliamo di forse di schiavitù non rende bene però siccome abbiamo nelle altre due live parlerò dei mercanti e degli artigiani magari in una delle due affrontiamo anche il problema dei clientes lo sintetizzo velocemente per chi magari non conoscesse l'argomento in maniera estremamente semplificata un cittadino romano particolarmente facoltoso dotato economicamente normalmente ha attorno a sé dei clientes cioè ovvero dei cittadini meno facoltosi che in cambio di denari o favori che possono essere l'utilizzo per esempio di strutture di produzione nel caso di artigiani che sono di proprietà del Patronus o cose del genere poi fornisce al Patronus stesso o la restituzione del prestito o come posso dire o un aiuto politico che può essere il voto suo e dei suoi familiari o comunque un supporto come appunto di vario tipo che può essere dall'accompagnare il Patronus stesso al spargere l'odio in giro al svolgere dei lavori per lui questo in maniera estremamente semplificata è sintetica scusate lord bentnik per capire l'italia dei flavi quanti abitanti aveva bella domanda non lo so sinceramente vi dico la verità perché appunto il problema grosso della storiografia della storia della storiografia dell'archeologia sulla demografia scusate è questo su base di cosa possiamo effettivamente contare gli abitanti dell'impero e delle città ci sono dei dati testuali delle fonti che ci raccontano per esempio delle per esempio delle fondazioni di alcune città per cui ci dice allora il console Gaio Marcello Morgerio si sposta nella zona di Funde e lì fonda la città di Funde e gli mette 300 coloni e tu sai che ci sono perlomeno 300 coloni poi ogni colono avrà una famiglia forse ha uno schiavo forse no puoi fare diciamo un calcolo un calcolo diciamo parziale Marcello verrà di po' furioso perché piccolo Marco perché grande Marco sono io però poi archeologicamente vai a vedere e vai a vedere la pianta di fondi per esempio della prima della prima della prima fase e la città risulta molto più piccola oppure molto più grande rispetto a quello che ci dice la fonte quindi che cosa è successo che in realtà porta 300 coloni ma degli abitanti ci sono già o che i 300 coloni arrivano col tempo quindi ne porta prima 50 poi 200 eccetera eccetera chiaramente non essendo ci sono i censi ci sono i censimenti che possono essere delle fonti però sono fonti parziali e ci possono dare indicazioni che ripeto gente più preparata assolutamente di me ha visto variare notevolmente da 50 a 100 milioni non è proprio una variazione minima del 5% il problema dei censimenti toschi è che spesso sono incompleti e che censiscono solo una parte della popolazione per esempio alcune fasce spesso non venivano censite cioè censisci i cittadini poi i cittadini magari censiscono le loro proprietà magari gli scavi sì magari gli scavi no ci sono tutta una serie di problemi storiografici sulle fonti dei censimenti e dicevo questi sono alcuni degli elementi l'altro elemento che va considerato nella nell'economia romana e con questo magari diciamo chiudiamo questa nostra introduzione generale è il ruolo dello Stato ci sono due grosse scuole di pensiero lo Stato romano cosa fa conquista una determinata zona la conquista della zona crea di per sé delle precondizioni favorevoli al commercio per esempio costruendo delle infrastrutture delle strade per esempio imponendo la monetazione e questo posta il fatto poi di essere inseriti all'interno di un di un di un regno di un impero come quello di Roma porta che i costi sono più bassi nel senso che non ho tasse ulteriori da pagare cioè quelle pagate a Roma e basta ci sono meno pericoli se io attraverso il Mediterraneo in barca non rischio di incontrare i pirati come succedeva magari cento anni prima chiunque attraversava il Mediterraneo c'è più disponibilità di materie prime perché dai nodi delle reti di connettività di integrazione del mercato stesso possono arrivare e arrivano effettivamente a Roma arrivano i marmi da tutto il Mediterraneo ma anche in altre città a Ravenna arrivano i marmi da tutto il Mediterraneo quindi la conquista la presenza dell'impero senza intervenire direttamente o socialmente crea delle precondizioni attuali l'altra scuola ovviamente che invece lo Stato giochi un ruolo importante e critico nello sviluppo dell'economia lo fa attraverso i tributi lo fa attraverso le tasse queste tasse supportano fanno girare l'economia cioè vengono riversate poi per esempio tramite le lit locali nell'economia della regione e quindi sono le lit che nella versione diciamo più estrema di questo di questa visione spingono queste capital venture queste iniziative capitaliste se vogliamo appunto usare un termine caro al nostro a Marx che adorava il capitalismo spingono appunto l'economia di una determinata regione ed è lo Stato a sovraintendere e appunto a permettere questa cosa questa ovviamente succede sia nei territori occupati da Roma sia come dicevamo prima con i territori vicini perché i confini non sono un limite fisso non sono indicativi sono aree fatte per appunto per esplorare per commerciare ben oltre i limiti anche della giurisdizione romana che però come vedremo in qualche modo legisla regola questo tipo di commerci anche quando essi si spingono al di fuori del proprio dominio ne regola l'importazione di merci ci sono dei tassi applicati alle merci esportate ci sono delle norme per cui queste merci vengono trasportate da un posto all'altro ma questo invece lo vedremo quando parleremo dei commerci con l'India visto che ce ne occupiamo tuttavia un passo molto carino che ho trovato nell'uomo romano libro storico della terza cura di Andrea Giardina c'è un passo molto carino su come avvenivano i commerci con popoli con cui non si avevano contatti linguistici effettivamente se ci pensate io romano arrivo in un posto non parlo la lingua come faccio a far capire questo vale 10 monete questo ne vale 30 questo ne vale 50 ecco il passo che vi leggo è è un passo di erodoto sui cartaginesi però ci serve come esempio chiaramente poi per per perché effettivamente viene citato come esempio di come fosse possibile commerciare anche nei territori di frontiera che territori di frontiera ragazzi quando parliamo per esempio delle colonne d'Ercole sono i confini del mondo ecco quindi mentalmente tu sai che stai andando a cominciare in un posto che sta ai limiti dell'orbe terra e erodoto ci dice i cartaginesi quando si recavano in quella parte della Libia che si estende oltre le colonne d'Ercole erano soliti scaricare le loro merci sulla spiaggia e disporle in bell'ordine ritornavano poi sulle navi e lanciavano segnali di fumo alla vista dei segnali gli abitanti del luogo si recavano sulla riva e vi deponevano una certa quantità di oro quindi si ritiravano se i cartaginesi ritenevano che l'oro fosse adeguato al valore delle merci se lo prendevano e salpavano in caso contrario lo lasciavano sulla sabbia e si imbarcavano nuovamente in attesa la scena si ripeteva fintando che i cartaginesi non si ritenevano soddisfatti erodoto commenta non si fanno mai torto negli uni negli altri nei cartaginesi toccano l'oro prima che abbia raggiunto il valore delle merci negli indigeni toccano le merci prima che i cartaginesi abbiano preso l'oro questa viene chiamata dagli storici la pratica del baratto silenzioso e viene poi riportata da diversi autori romani anche ad altri popoli per esempio i Seres del lontano oriente gli Otiopi gli Egiziani e anche per esempio da Comos Main di Copleuste che è una delle fonti appunto per il commercio per il commercio delle zone dell'India e del lontano oriente sulla figura del mercante a Roma appunto ne parleremo quando parleremo dei commerci e di chi li effettuava c'è un forte giudizio chiaramente derivante da chi gestisce la società perché abbiamo detto che l'economia romana è prevalentemente agraria ma il comparto agrario è gestito non come vi dicevo appunto non dalla borghesia dalla media classe ma dall'elite dalle grandi famiglie latifondiste ovviamente quello è un lavoro comprensibile accettabile il commercio invece meno diciamo all'inizio no poi diventerà meno e quindi un argomento estremamente sfaccettato ed è per questo che piuttosto che farvi una storia dell'economia romana di come varia nel tempo credo che sia più utile anche più carino raccontarvi i vari aspetti quindi il rapporto fra schiavo la produzione agraria e la villa in modo anche da diciamo toccare con mano quali sono i luoghi in cui avviene l'economia romana il mercante la nave ed il suo carico questo è quello di cui parleremo la città gli artigiano e il suo atelier e poi vedremo come tutto questo in realtà si riporta alle teorie e alle idee di cui abbiamo parlato oggi ovvero rispetto a quello che noi effettivamente sappiamo rispetto a quello che noi effettivamente abbiamo in mano dell'economia romana ovvero i testi i materiali le fonti la distribuzione di questi materiali nello spazio e nel tempo questa economia romana è veramente come ce la immaginiamo è veramente siamo veramente davanti a un mondo integrato interconnesso globalizzato come sostengono molti molti studiosi della romanizzazione la romanizzazione è effettivamente globalizzazione dal punto di vista economico oppure il dato archeologico soprattutto se studiato in quantità importanti ci restituisce un'immagine diversa questo lo scopriremo nelle prossime puntate perché posso raccontarvi tutto stasera dobbiamo fare queste puntate che mi pagano per fare queste puntate per cui accontentatevi per stasera di quello di cui abbiamo parlato allora domande perché inizio a pensare che la risposta sia come sempre dipende caro Toschi dipende dipende perché la pensi così Cino perché non ci sono mai regole fisse ragazzi la risposta è dipende perché come dicevamo con Diego Riccardo l'altra volta la storia non è una storia semplice è una storia complessa e dobbiamo imparare a trattarla come una materia complessa esiste una scienza della complessità e secondo me gli strumenti della scienza della complessità sono anche gli strumenti della storia e infatti è proprio quello che vedremo vi do questo piccolo spoiler anche Geology ti rispondono dipende è vero ragazzi io spero che questa live introduttiva vi sia piaciuta vi faccio un'ultima cosa vorrei ringraziare Andrea che ha realizzato lo sfondo chat mio personale che vedete qui che è il quadro dalla casa di Lucrezio Frontone a Pompei e vi saluto tutti quanti un bacione enorme e ci vediamo prossimamente su questo canale su questi schermi la prossima volta di cosa parliamo abbiamo detto Villa e schiavi se non vi piace il marxismo non seguite questa live ve lo dico un bacio a tutti e alla prossima la prossima Grazie.